buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video 7 50 ho appena lasciato mio figlio a scuola sto andando in magazzino nel garage perché devo caricare il rimorchio per domani perché vado a fare un tetto poi dopo metterò qualche foto già che ci sono volevo terminare il video con qualche clip sull'antifurto che ho messo nel garage in officina magazzino è sempre lo stesso posto anche io lo chiamo in 50 mila modi prego anche se non ci sono le strisce facciamo passare le signore quindi andiamo ad analizzare un attimo l'impianto dell'antifurto che ho fatto nel garage dove vi ricordo non c'è corrente ok adesso poi vi spiego tutto a livello tecnico però ho bisogno prima di andare a fare questa cosa di fare una tappa fondamentale ok ripartiamo ci voleva io non sono il tipo da colazione al bar tutte le mattine però ogni tanto è una coccola che mi concedo quando magari sento che ne ho bisogno ecco una volta a settimana forse non di più comunque adesso andiamo nel garage partiamo dalla porta d'ingresso dove ho fatto un sacco di lavori già lì per poi andare dentro vi faccio vedere cosa ho messo come antifurti eccetera e vi do due dritte allora la prima cosa in un locale da proteggere con un antifurto sono i varchi di accesso perché io prima avevo un portone che era non come questo molto peggio era tutto marcio nella parte sotto gli davi un calcio sfondavi il quadrato ed eri dentro quindi in un bel agosto dell'anno scorso mi sono messo lì col fabbro abbiamo rifatto tutta la parte in ferro della porta l'ho verniciata e l'abbiamo sistemata detto questo abbiamo un ingresso diciamo assolutamente anonimo perché non c'è sirene non c'è nulla in realtà la sirena è là dentro poi dopo ve la faccio vedere allora prima di entrare togliamo l'antifurto questo è il radiocomando ajax standard inserimento disinserimento altri tasti funzione panico eccetera ho attivato la funzione che bisogna tenerlo premuto per evitare accidentalmente che si possa inserire o disinserire e ho messo la conferma sonora e visiva sulla sirena e ora vi faccio vedere ok quindi so che l'ho tolto prima serratura ad aprire ok e poi lucchetto corazzato questo è un mac mouse togliamo anche lui e siamo nel garage ma che il porta lucchetto allora ci chiudiamo un secondo dentro e vi spiego com'è strutturato l'allarme allora prima cosa la sirena questa è la sirena dell'ajax che si chiama street è una sirena da esterno autoalimentata alle sue batterie ha anche diciamo una funzione di illuminazione suona anche molto forte questa qui da applicazione si può impostare tutti i parametri gestire le luci il volume se suona se non suona quando suona ci sono mille impostazioni poi il primo barco che il portone è protetto da un contatto quindi un unico contatto contatto porta questo è il modello che sente anche diciamo l'inclinazione e tentativo quindi a un sensore sismico sente la vibrazione col suo magnete quello di destra il sensore quello di sinistra il magnete vedete che sono abbastanza allineati questa è un'installazione corretta una distanza corretta tra i due elementi ma soprattutto sono in piano però vedete che dove ho fissato il magnete è diverso come livello rispetto a dove ho fissato il sensore allora un piccolo consiglio quando montate ad esempio un contatto magnetico come questo quando avete un dislivello importante tra le due superfici bisogna spessorarle per renderle pari anche un bel tocco di legno che poi si varnicia del colore per non farlo vedere troppo può servire a portare in piano le due superfici poi una volta entrati abbiamo queste finestre che avrei potuto proteggere ma in realtà non serviva perché ci sono tutte le inferiate è praticamente impossibile che possano entrare ma per proteggere comunque un eventuale ingresso magari si mettono a tagliare spaccano tutto ed entrano abbiamo un unico sensore volumetrico qui nell'angolo fa una buona copertura mi protegge diciamo tutto quello che inquadra guardando verso le finestre a livello di sensoristica anti intrusione abbiamo finito poi abbiamo due robe un po particolari allora questo cosino per terra è un sensore anti allagamento dell'ajax perché ce l'ho e perché l'ho messo lì perché siamo proprio sotto una zona con degli scarichi che tra l'altro è tutto in potrebbero perdere rompersi eccetera poi ci sono dei tubi di acqua calda e fredda che potrebbero perdere anche quelli in più abbiamo tutte le colonne del riscaldamento e dell'acqua del condominio che c'è sopra quindi se ci fosse un pericolo di allagamento questo sensore mi avvisa va in allarme insomma in base a come lo si programma e adesso vi faccio vedere come funziona vedete che ha dei contatti qua su ognuno dei quattro lati qui notiamo che la perdita rilevata c'è scritto no appena sente che questi due contatti su uno dei qualsiasi lati viene messo in corto dall'acqua che comunque un conduttore vediamo cosa succede vedete che diventa rosso invia l'allarme ci arriva la notifica rilevamento allagamento e la perdita viene rilevata poi chiaramente possiamo abbinarlo a un allarme alla pura notifica a quello che più ci serve se noi adesso lo riportiamo in condizione di non essere bagnato vedete che arriva la notifica allagamento non è più rilevato dispositivo anti allagamento in officina questo è fondamentale in ambienti dove c'è il rischio comunque di allagamento perché magari sono sottoterra perché magari ci sono tubazioni vicine eccetera eccetera poi un altro sensore che ho messo è quello sensore fumi vedete che è montato lì a soffitto funziona come l'altro in caso di principi di incendio se rileva problemi eccetera in questo caso l'ho programmato che va proprio in allarme e mi avvisa anche e tra l'altro sia il sensore quello lì che il sensore dell'acqua quello per terra si possono anche programmare che siano sempre in allarme anche se per caso ci dimentichiamo di mettere l'antifurto tutti questi sensori fanno capo a cosa fanno capo alla centrale alex questo è un hub come dialoga con me dialoga tramite una sim che c'è dentro con un piano dati chiaramente i dati che vengono consumati sono pochissimi però ci va una sim col piano dati la centrale vedete che alimentata e connessa e tutto verde ed è una centrale che lavora chiaramente a 12 volt avevo fatto un video dove vi faccio vedere come trasformare questa centrale da due eventi a 12 e ve lo lascio qua sopra ma anche in descrizione nel video chiaramente il suo cavetto del 12 volt arriva dalla linea 12 volte che la stessa che fa le luci a led qua sparse in giro per tutto il garage avevo fatto un video anche di tutta la parte di sia di come si mettono i tubi e sia di come ho strutturato l'impianto a 12 volt adesso la centrale è alimentata ed è alimentata da la power station che rimane sempre accesa col 12 volt attivo vedete che ho l'uscita 12 volt attiva consuma talmente poco che non viene neanche rilevata quando invece accende ad esempio un led invece vengono rilevati perché hanno un consumo importante e mi fanno i miei 40 watt questo è l'impianto di antifurto del garage io sono assolutamente contento di quello che ho ottenuto e tutto materiale che si trova anche online costa poco ed è facilissimo da programmare non abbiamo mai fatto un video della centrale ajax per farvele vedere tutto magari poi ci soffermeremo anche su quello però intanto vi faccio dare un'occhiata all'applicazione e così vi spiego come funziona quali sono le opzioni eccetera dunque vi faccio dare un'occhiata all'applicazione del sistema ajax beh non abbiamo parlato durante il video però stiamo chiaramente parlando del sistema ajax famosissimo composto da una centrale che si chiama hub poi c'è l'hub 2 lab plus in base alle connessioni 4g wifi ethernet eccetera cambiano i livelli cambiano se dovete avere sensori con la video verifica insomma ci sono varie versioni comunque sistema completamente radio si può ampliare con una valanga di sensoristica e questo è il sistema allora adesso vi faccio vedere i tempi reali di risposta dell'impianto quello che c'è proprio nel garage con la sim che c'è a bordo apriamo l'app bianca vedete che si collega subito quindi garage inserito la prima schermata qui che poi sotto nelle quattro categorie sarebbe il controllo è quella che vi permette di inserire disinserire usare la modalità notturna che poi si può programmare o attivare un allarme un panico ci sono varie opzioni vedete che è inserito se io lo disinserisco vedete che in tempo reale dal disinserimento mi arriva la conferma e anche la notifica viene poi notificato in questo modo vi dice se è stato disinserito da muletto che in questo caso è questo telefono con radiocomando e avete lo storico di tutti gli inserimenti vedete che ho avuto un down il 10 marzo ma perché c'era un aggiornamento dei server ajax comunica anche sempre continuamente quando ci sono delle manutenzioni e qui ho tutto lo storico anche delle nvr ne parleremo poi un attimino dopo e qui avete tutto quanto quindi controlli notifiche stanze io non solo una che l'officina ma in un impianto casalingo che si chiama casa via roma potete dividere l'impianto per stanze poi abbiamo tutti i dispositivi quindi se andiamo in dispositivi vedete che c'è la centrale sentiamo dentro abbiamo l'intensità del segnale cellulare è uno su tre non è altissimo lì dentro ci sono tutte le solette il condominio sopra comunque funziona bene mai avuto problemi connessa batteria carica perché è alimentata vedete alimentazione esterna collegata sarebbe la stessa voce col 220 con l'alimentatore a 12 non cambia nulla stato coperchio chiuso perché c'è il tamper dati cellulari collegato da cavo ethernet non collegato scheda sim scheda sim il rumore e basta qui poi abbiamo tutta una serie di impostazioni quindi possiamo configurare tutti i codici di accesso le sicurezze fare il test dei disturbi ci sono veramente tantissime cose cambiare nome indirizzi geolocalizzazione aree possiamo dividerla e programmarla in un sacco di modi molto semplice ma con molte opzioni e questa era diciamo la centrale l'nvr come vi ho accennato ne parleremo poi un attimino dopo perché esiste anche l'nvr di ajax che tra l'altro adesso è spento che vedete all'interno del vostro impianto dove vedete tutti i dispositivi non abbiamo telecamere in questo caso ma poi ve le farò vedere magari un giorno e qui abbiamo i sensori che abbiamo visto oggi quindi c'è il portone di ogni sensore vi dà la temperatura il segnale con la centrale se connesso la carica della batteria lo stato del coperchio del sensore il contatto esterno perché questo sensore permette di collegare anche un secondo magnete allo stesso dispositivo quindi con un dispositivo fate due zone il sempre attivo la disattivazione la modalità operativa un sacco di opzioni anche qui che si possono configurare si può abilitare il sensore si può attivare sempre si può associare alla modalità notte eccetera tutto quello che vi serve il radiocomando è quello che avete visto non si può fare chissà cosa se non attivare la pressione prolungata associarlo a determinati utenti zone stanze si può dividere un po come si vuole l'infrarosso che abbiamo dentro ci dice più o meno le stesse cose del sensore e abbiamo più o meno le stesse programmazioni è anche interessante che tutti i sensori vi danno le temperature quindi in ogni ambiente anche se magari non è preciso al mezzo grado però vi dà un'idea delle temperature sirena esterna in cui abbiamo tutte le opzioni carica della batteria è possibile anche alimentarne esternamente con un alimentatore qua dice che è scollegato quanto dura l'allarme quanto il volume gli indicatori potete decidere se magari segnalare impianto inserito e io ad esempio in questo caso l'ho attivato ma di solito lo tengo disattivo tutte le varie opzioni sui ritardi inserimenti eccetera e tutto si configura da qua dentro poi l'antiallagamento che abbiamo visto già quando vi ho dimostrato a banco come funziona possiamo dargli un nome metterlo nella stanza decidere con questa opzione se deve dare un allarme o solo la notifica io l'ho lasciato solo notifica e stessa cosa ce l'abbiamo più o meno sul sensore antincendio quindi tutte la situazione batteria temperatura eccetera possiamo decidere se dare un allarme di temperatura alta di aumento rapido di temperatura se superiamo una determinata soglia che possiamo impostare anche lui assolutamente programmabile l'aggiunta dei dispositivi si fa semplicemente con la fotocamera inquadrando il qr code è una roba proprio semplicissima da usare questo impianto ajax vi ho fatto vedere almeno anche come gestisce il tutto l'applicazione va bene ora si riparte vado a iniziare la mia giornata lavorativa un impianto semplice molto semplice non avevo bisogno di mettere chissà cosa ecco però avevo bisogno di essere indipendente anche in mancanza di alimentazione poi è chiaro che anche avendo due pole station può capitare periodo dove fa brutto per settimane settimane allora in quel caso cosa succede che l'antifurto comunque mi manda una notifica mi dice che manca la fonte di alimentazione esterna lui ha la sua batteria interna continua ad essere alimentato però io so che in quel caso devo intervenire perché se nel mio garage manca l'alimentazione esterna vuol dire che ho finito tutte le batterie allora magari faccio un salto o qualche ora di tempo per andarci ricarico le pole station col furgone nel video del garage vi avevo fatto vedere che avevo predisposto una linea in caso di emergenza per caricare le batterie dell'officina del garage con la batteria del furgone e bene o male la risolvo così a essere sincero mi è capitato una volta di finire tutte le pole station e dover intervenire col furgone quindi il mio sistema home di emergenza ha comunque funzionato lui consuma pochissimo l'avevamo visto anche nel video dell'alimentazione poi tenete conto che ajax fa anche un nvr un registratore con le sue telecamere registratore che va collegato in rete via cavo così avete una connessione diretta e poi dialoga con tutte le telecamere che vengono aggiunte ed è un bel sistema e anche quello adesso ajax ha messo a listino la modifica per mettere l'alimentatore a 12 volte non lo metterò sicuramente nel garage perché tra quello le telecamere la centrale poi avrei troppo consumo io attualmente di consumo fisso ho solo la centrale lab che consuma praticamente nulla però magari poi in un video ve lo faccio vedere anche questo questo nvr di ajax perché sia lui che le telecamere funzionano molto bene il mio impianto è finito ripeto semplice però in luogo comunque da proteggere perché mi interessa è fondamentale non tanto per impedire al ladro di entrare anche perché l'ho voluto nascondere però se succede vengo avvisato se sono lontano mando qualcuno se sono vicino faccio un salto è una situazione che potrebbe verificarsi ma molto rara perché qui è una zona tranquilla tra l'altro sopra garage io in quello stabile faccio manutenzione conosco tutti quello che abita proprio sopra lo conosco anche personalmente se sente rumori o robe varie difficilmente la scampano questo è tutto è come ho risolto la situazione anti intrusione nell'officina nel garage se vi è piaciuto anche questo video semplice un bel like come vi ho detto inizio video sono andato per caricare il rimorchio sto preparando anche quel video del rimorchio sempre un po a ridento perché comunque bisogna lavorare mi raccomando che non costa nulla un tastino iscrivetevi mi fate crescere il canale gratis e mi date un grosso supporto noi ci vediamo al prossimo video del garage di domotica di fotovoltaico quello che sia o se passate il negozio da torino c'è sempre un buon caffè che vi aspetta non il cappuccino con brioche o solo il caffè grazie a tutti ciao da massidattoli